Nome? Giuseppe. Cognome? Fumarola. Età? 25. Città natale? Bari. Lavoro? Barman. Classico o freestyle? Barman classico. Perché? Perché lo sento nell'anima, mi sento un barman classico a tutti gli effetti. Nome del locale? Salima, Milano, Marietta. Cosa vi piace del tuo lavoro? Il mio lavoro mi piace tutto, lo adoro perché mi ha adottato e non lo lascerò mai. I tuoi hobby? I hobby sono corsi su bar, aggiornamenti, visitare delle fiere in giro che riguardano il mio settore, leggere, musica, visco, possibilmente anche viaggiare quando c'è il tempo. Perché dovresti vincere tu? Allora, perché? Perché credo che io sia un ottimo concorrente, quindi potrei giocarmelo con qualcuno, mi auguro che mi vada bene. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà dal web? A chi mi seguirà dal web dico di votarmi se ce ne sarà bisogno, perché è un drink che ho fatto veramente buono. E vi invito tutti a salire a Miano Marittima per assaggiarlo. Fai un saluto. Saluto tutto lo staff del salire a Miano Marittima e tutti i miei amici che sono qui a guardarmi. Grazie.